Un'intervista al capitano per l'incontro decisivo? Come la vedi? Speriamo che vinceremo! 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 Speriamo che! Speriamo che vinceremo! Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che vinceremo! 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 Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che! Speriamo che vinceremo! Speriamo che! Speriamo che vinceremo! Speriamo che! 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 Speriamo che!